Ricchi, era una notizia che aspettavano in tanti ed è arrivata, è arrivato ieri tramite X ex Twitter il comunicato ufficiale di Biden che si ritira dalla corsa alla presidenza degli Stati Uniti, Biden ha adotto come motivazione il desiderio di concentrarsi, concentrare i propri sforzi sul finire la sua corsa, ma insomma le motivazioni sono palese a tutti, era chiaro ormai che l'età rendesse complicato il lavoro che voleva andare a fare, tant'è tantissimi nei democratici stavano spingendo per il suo ritiro, chi non spingeva probabilmente lo faceva per mantenere le apparenze, ovviamente Kamala lo supportava ad esempio, comunque è arrivato il ritiro, è arrivato anche l'endorsement a Kamala Harris, altra scelta obbligata, perché sai, rinuncia a un progetto così in avanti e non è mai successo che un presidente in corsa si ritirasse così tardi nella campagna, risultava anche brutto dire oh non va bene io, non va bene nemmeno la mia vice, abbiamo sbagliato tutto, cambio completo di rotta, quindi ci stava a scegliere Kamala Harris, Kamala Harris che ha 59 anni, che io mi sono stupito perché anche solo per la contraposizione con Biden pensavo ne avesse di meno, ho detto ah cazzo addirittura 59 anni, però è una ragazzina rispetto a Biden e rispetto a Trump che godrà sì della spinta magari per le minoranze, soprattutto la minoranza nera, sua madre era indiana quindi raccoglie quelle minoranze lì, oppure la maggioranza femminile, perché potrebbe essere la prima donna presidente degli Stati Uniti, d'altra parte non gode però di una buona popolarità, anzi nei sondaggi fatti prima dell'attentato a Trump e quindi anche prima del ritiro di Biden, godeva di una popolarità tra i votanti inferiore a quella di Biden, poi questa si alzerà perché ovviamente sono sondaggi fatti per strada, cosa pensi di Kamala, la prima reazione è no, come Kamala, però si alterà un pochino, però insomma non è, il punto è, potrebbe essere troppo tardi questo ritiro di Biden? Io credo che questo ritiro di Biden sia sinceramente dovuto a condizioni di salute, penso che davvero Biden che tra l'altro ha contratto da poco il Covid, penso davvero che sia al limite fisico, anche per portare avanti la presidenza fino alla fine del mandato sinceramente, credo che alla fine sia stato qualcosa di inevitabile, la scelta della Harris che non è soltanto indicata come da prassi, diciamo da Biden, ma è anche sostenuta da molti nomi forti, governatori e non solo i ministri democratici che si dava per scontato, potessero essere delle alternative a Biden, credo che questa indicazione sia più che altro per mantenere una continuità da un punto di vista dello staff, che quindi è lo stesso e che quindi continua a lavorare alla stessa campagna cambiando il frontman, anzi in questo caso la frontwoman, ma da parte dei democratici a mio avviso è una scelta, se verrà confermata nella convention di metà agosto, è una scelta che va verso una consapevole sconfitta, credo che nessun uomo forte del partito democratico vada a bruciarsi in una campagna elettorale già quasi agli sgoccioli contro un Trump molto forte per rischiare una sconfitta che rischia di compromettere una carriera, la Harris non è tanto popolare al di fuori ovviamente dell'ambiente progressista, lei è una delle fautrici del DEI, il Diversity Equity and Inclusion, se non sbaglio questa potremmo dire politica di raddrizzamento delle storture della società americana e del razzismo insito nei luoghi di lavoro e nelle cariche politiche della società americana che è accusato da molti a mio avviso giustamente di essere un razzismo al contrario e quindi la Harris è forte nelle roccaforti progressiste sicuramente non viene considerata una capace di ribaltare gli stati in bilico che sono come sempre quelli decisivi, bisognerà vedere chi indicherà lei come vicepresidente, mi immagino un uomo bianco, maschio, etero religioso bonario che cerca in qualche modo di sedurre l'elettorato centrista ma non credo onestamente che Trump e Vance possano essere battuti così tardi da una Harris che era già stata definita come sicuramente perdente nel caso fosse andata contro Trump, credo che davvero le condizioni fisiche di Biden abbiano messo alle strette i democratici che fino all'ultimo hanno cercato di tenere insieme la campagna così com'era. O le condizioni fisiche oppure quando sono arrivati anche i dubbi di George Clooney, io penso che quando George Clooney ti chieda di ritirarti capisci che forse è finita, forse è stato il colpo di grazia quello, non lo so, però il tuo scetticismo su Kamala Harris è condiviso anche da Trump che ha risposto subito sarà ancora più facile contro Kamala, però subito dopo aver detto questo ha scritto sul suo social competitor di Twitter o X che è Truth, la verità, non Paul Pierce ma un social media e ha scritto che vorrebbe essere rimborsato per tutta la campagna elettorale e ha accusato i democratici di frode perché loro sapevano benissimo che Biden non fosse presentabile, non potesse correre ancora come presidente e l'abbiano fatto solo per distrarre i repubblicani. Ora, sarà stata una campagna già fatta però per ora sta andando bene per Trump, quindi in un modo o nell'altro non penso sia proprio soldi buttati. Sono comunque soldi che ha speso bene, nel senso che si è molto giovato della contraposizione con Biden perché Trump fino a ieri era quello giovane e vigoroso, almeno questo non lo sarà più si spera. Sì, sì esatto, dovranno cambiare strategia, quello sicuramente perché non funziona più la strategia, vabbè sono più sveglio di quello lì, dovranno cambiare strategia, tu dici il problema negli stati in bilico, sì perché si crea un po' il difetto di tutti quei politici soprattutto a sinistra che diventano molto popolari in California, è stata tutta la carriera di Kamala Harris, è stata in California, in cui si acquisisce magari molto popolarità tra i giovanissimi, tra la sinistra e l'estrema sinistra, però poi il resto dell'America dice sì ma tu non ci rappresenti. Quello sarà un po' il problema, ho visto ottimismo per il fatto che il suo background da procuratrice la rende migliore nei dibattiti, nel dibattito della vicepresidenza del 2020 contro Mike Pence aveva vinto nettamente nell'opinione del pubblico, 59% 38%, leggevo stamattina, quindi sicuramente su quello farà meglio di Biden e l'unica speranza forse per i democratici sia che la spinta della novità, magari una donna, davvero penso che punteranno molto sull'elettorato femminile che potrebbe essere portato a votare un po' di più perché repubblicani vuol dire soprattutto recentemente restrizioni contro l'aborto e quelle... Già l'elettorato femminile è spostato verso i democratici. Esatto, sì sì sì, però è una di quelle questioni identitarie per le quali spesso la gente va a votare, sposta abbastanza, quindi quello magari qualche... le donne indecise magari le peschi, però sembra veramente veramente tosta arrivare ai numeri di Trump. Secondo me ora si genera una contraposizione completamente diversa perché fino ad adesso si è trascurato di analizzare quanto anziano sia Donald Trump, quanto davvero ancora lucido sia Donald Trump, perché rispetto a Biden ovviamente appariva un ragazzino, ma rispetto a Harris potrebbero iniziare davvero a vedersi le crepe in un candidato presidente che sono nero a 78 anni, insomma parecchio in là con gli anni anche Trump, che andrebbe verso un quadriennio che potrebbe addirittura non concludere, comunque potrebbe vedere in Vance un vicepresidente giovane, importante, che potrebbe avere un ruolo. Quindi vedremo Trump se riuscirà a mantenere la propria immagine anche in un eventuale scontro verbale con la Harris, però dal mio punto di vista sono talmente distanti, sono talmente lontani, non essendo la Harris ciò che sarebbe stato un Biden ancora in forze, ovvero quel candidato rassicurante, centrista, che va a pescare anche nell'America profonda, cosiddetta, non essendolo la Harris, questo avvantaggia molto la posizione dei repubblicani che vedono nella Harris esattamente tutto ciò che detestano, compreso il discorso dell'aborto in realtà, e quindi secondo me si va verso una contraposizione molto molto aspra, molto netta e definita, che vedrà la Harris facilmente prevalere nelle roccaforti progressiste, ma potrebbe vederla secondo me fare molta fatica, dove le cose sono più in bilico. Cioè quindi tu pensi anche con una situazione di dibattiti molto positiva per Harris, anche se dovesse vincere nettamente dei dibattiti, pensi che il bacino di indecisi da cui potrebbe pescare sarebbe comunque piccolo, perché gli indecisi con lei e con la sua posizione estrema sarebbero pochi. A mio avviso sì, e poi comunque anche quando si giudicano i vincitori di un dibattito non è soltanto la logica, non è soltanto l'argomentazione, ma ce lo ricordiamo dall'Italia, Berlusconi contro Prodi, basta una frase ad effetto, bastano alcune sferzate retoriche, quindi bisogna vedere che cosa dirà il New York Times, magari che dirà che la Harris ha stravince i dibattiti, che cosa sentiranno magari gli elettori indecisi, che magari ce l'hanno meno simpatica in qualche sparata populista di Trump, si potranno identificare maggiormente. Grazie. Grazie.